Oggi è un giorno così. Oggi per Giovanni poteva essere un bel giorno. Oggi Giovanni poteva incontrare i suoi amici. Giovanni oggi è stato investito da un pirata della strada. Ha bisogno di sangue, cosa c'entri tu? Tu puoi salvarlo. La donazione è un gesto positivo per ognuno di noi. Una scelta personale di apertura verso gli altri che fa bene anche a noi stessi.